Lavoravano mediamente 45 ore a settimana ma venivano pagati 700 euro al mese indipendentemente dalla mansione svolta e dalle ore lavorate. Durante l'orario di lavoro veniva loro impedito di fare una pausa, di socializzare e gli è stato persino vietato di scambiarsi numeri di telefono. Da soli effettuavano il turno di notte 12 ore durante il quale oltre ad accudire gli anziani avrebbero anche dovuto lavare e stirare la biancheria. Questo è quanto sarebbe emerso per 36 lavoratori su 40 impiegati parzialmente o totalmente in nero dal 2016 al 2020 per assistere gli anziani ricoverati in una RSA messinese secondo le risultanze delle indagini svolte dalle fiamme gialle di Taormina coordinate dal gruppo di Messina. Il titolare della struttura al fine di ottenere indebiti risparmi in termini di versamento di contributi e doneri previdenziali avrebbe impiegato abusivamente in tutto o in parte i lavoratori senza effettuare regolare comunicazione al centro per l'impiego. I militari della compagnia taorminese hanno riscontrato palesi violazioni alla normativa sull'orario di lavoro, i periodi di riposo, il riposo settimanale, l'aspettativa obbligatoria e le ferie. Pesantissime le sanzioni nei confronti del datore di lavoro che salvi gli ulteriori aggravi determinati da IMSS e INAIL ai quali è stato inviato il verbale redatto dei finanzieri dovrà regolarizzare la posizione del personale attualmente impiegato irregolarmente e far fronte ad una contestazione di oltre 130 mila euro di multa a titolo di sanzioni oltre alle somme dovute a titolo di ritenute fiscali e previdenziali.